Rinnovo Spalletti, svelate le cifre e la data dell'annuncio. Luciano Spalletti e il Napoli si sono trovati immediatamente, entrambi in cerca di riscatto, entrambi con un sogno nel cassetto. Il tecnico di Certaldo è diventato il più anziano mister a vincere per la prima volta la Serie A, all'età di 64 anni. Il presidente, Aurelio De Laurentiis, non vuole farselo scappare e, in una cena fatta in settimana, è stato trovato l'accordo per il rinnovo di contratto. Il mister chiedeva le giuste garanzie tecniche e di programmazione, non un aumento. Aumento che comunque arriverà per volontà di De Laurentiis stesso. La Gazzetta dello Sport ha svelato l'accordo dietro il rinnovo e quando ne verrà dato l'annuncio. La data prevista è giovedì prossimo, in occasione della conferenza stampa di presentazione del dodicesimo ritiro del Napoli a Di Maro. Luciano Spalletti andrà invece a guadagnare 3,5 milioni di euro, il 25% in più rispetto ai 2,8 attuali. De Laurentiis dovrà ora riuscire a confermare anche i pilastri della squadra che ha riportato lo scudetto a Napoli, da Osimena a Quarashchelia, passando per Kim e Lobotka. Contenti per il rinnovo di Spalletti?